Gubbio Teramo è stata una partita quasi monotematica, il Gubbio ha schiacciato completamente il Teramo ma non è riuscita a fare gol, una gara importante, era importante vincere ma ovviamente non è riuscito ma comunque ha più o meno convinto. Adesso passiamo ai numeri, un possesso palla come abbiamo detto schiacciante, un gioco di manovra schiacciante, 62% rispetto al 38% del Teramo. I tiri in porta sono 6 a 2 dove ovviamente è mancata un po' di precisione perché in generale 3 sono finiti dentro lo specchio della porta mentre il Teramo solo 1. I corner addirittura 6 a 1 per il Gubbio e poi come vedete dai falli fatti il Teramo ha bloccato il Gubbio soprattutto nella zona mediana facendo 23 falli evitando le ripartenze che il Gubbio ha attestato solo al 31%, un grande Gubbio che però non è riuscito a vincere.